Il ricordo comunque che anche per motivi di studio di tutti i partecipanti le registrazioni sono già in linea su YouTube e saranno anche strutturate nella prossima settimana in modo più accessibile, in modo da consentire a tutti l'approfondimento di questi interessantissimi concetti che sono stati espressi. E veramente c'è da pensare che l'intelligenza artificiale sarà la prossima quasi rivoluzione anche industriale e della società, perché sarà molto molto pervasiva in tutte le nostre vite. Speriamo a favore della qualità della vita. Buongiorno. Grazie a tutti.